martedì 21 maggio 2024 buongiorno un calcio amici e bentornati a questo nuovo video allora adesso inevitabilmente tolto il pensiero per la roma del piazzamento in campionato ora si aspetta solo l'esito finale del destino dell'Atalanta nella finale d'Europa League per sapere se la roma avrà questo regalo dagli orobici e dal destino però si pensa già al futuro accertato che Ghisolfi sarà il nuovo DS la roma incomincia a guardarsi intorno e incomincia come ha detto De Rossi qualche giorno fa in conferenza stampa proprio alla vigilia del Genoa anche a mozzicasse un po' le mani sulla su quella che è stata la gestione del bivaio no De Rossi ha nominato tra tutti proprio Calafiori e Frattesi non a caso ieri sera Calafiori ha fatto una doppietta alla Juventus primo gol bello sotto la traversa difensore d'aspetto il lì che prova solo a tira forte invece l'ha proprio piazzato e il secondo mi dicono perché eravamo live su il triplice fischio non l'ho potuto vedere mi raccontano di uno scavetto addirittura quindi un ragazzo che ha avuto uno sviluppo nel giro di una stagione perché perché è stato venduto a un milione d'euro e appunto due anni due anni fa è stato un anno al Basilea dopodiché è arrivato al Bologna ecco che che tipo di giocatore è diventato De Rossi oltretutto ci ha detto che gli aveva detto più volte a Calafiori che lui lo vedeva come centrale e centrale difensiva è diventato quindi Calafiori e Frattesi due patrimoni della Roma regalati così proprio per fare queste magari ecco per comprare De Frel oppure Pavecce e Mione per pagare meno di morta alla UEFA quindi questo è sicuramente un fattore sul quale bisognerà migliorare e non inciderà solo il DS ma incideranno anche le persone insomma che stanno a Tricoria perché se è vero che quella di Calafiori è una cessione avallata da Murigno è anche vero che essendo un patrimonio della società deve decidere pure qualcun altro ne deve carpire le qualità di questi giocatori perché poi dopo aumentano i rimpianti ora ricomprare Calafiori logicamente è una briscola no anche perché il 40 per cento famoso sul milione e mezzo chiesto al Basilea la Roma già l'ha incassato e non è certo la cifra che adesso eventualmente incasterà il Bologna se cedrà alle lusinghe dei club più affermati quindi sicuramente questo è il primo punto che va migliorato con questa nuova gestione nuova gestione che punterà si narra più sulla ricostruzione che la rivoluzione quindi ciò significa che verranno aggiunti dei calciatori altri sicuramente se ne andranno per fine prestito altri verranno ceduti o comunque sistemati d'altra parte per problemi d'età per problemi con l'ambiente per problemi tecnici e mi viene in mente Karlsdorp Smalling Smalling è arrivato Karlsdorp tecnicamente ma anche emotivamente non può più far parte di questa squadra la squadra questa stagione ha dimostrato che non è un caso che sono più di sei anni che arriva al massimo al sesto posto e quindi a me mi dispiace ripeto io parlo sempre di Cristante ne ho parlato anche allo stadio ma è evidente come Brian Cristante non possa essere il titolare di una squadra che ha ambizioni superiori è un giocatore sicuramente che ogni allenatore vorrebbe avere perché te gioca 100 minuti se infortunia raramente non molla mai però tecnicamente non ti dà quella scossa al centrocampo nelle partite che te può dà Mbarella che te può dà che te posso di un sciavanoglu molte parlo di tutti quelli dell'Inter lo stesso frattesi e piuttosto che anche Mkhitaryan che è stato reinventato centrocampista da Simone Inzaghi quindi la Roma deve intervenire in quel reparto e proprio a voce di questi giorni che essendo Nandez l'uruguaggio uruguagliano come preferite del Cagliari a parametro zero in scadenza è logicamente un affare appetibile per la Roma ora quello che bisognerà fa logicamente non è che credo che ci abbiamo pensato solo noi visto che a zero ci staranno a pensare diverse squadre la differenza la farà la proposta economica che andrà a fare la società che si assicurerà le prestazioni di questo centrocampista che ha proprio le caratteristiche che elencavamo cioè quello del box to box che a me non mi piace però insomma ormai va de moda l'inglese se devo maggiornare e ha quelle caratteristiche là quindi sarebbe proprio il centrocampista che manca la Roma se dovesse essere individuato lui seppur non è non è ancora non è più giovanissimo ma ha 28 anni sicuramente un quinquennale non pagando il cartellino sarebbe un buon affare per la Roma se Nandez avesse il rendimento che ha avuto logicamente a Cagliari se facesse un po' il secondo na in Golan io ne approfitterei ecco tutto lì quindi vediamo vediamo cosa riuscirà a fare alla Roma questo è il primo nome che circola mentre per l'attacco sembra che già da tempo De Rossi lo avesse sul taccuino me lo sono segnato il nome perché è difficilissimo Morodion Samu Morodion che è di proprietà dell'Atletico Madrid e quest'anno è stato in prestito al Deportivo Alaves se non sbaglio si chiami così questa squadra sembra che abbia fatto un'ottima stagione su di lui c'è anche il Napoli logicamente un ragazzo molto interessante a 20 anni classe 2004 quindi si si proverà a fare logicamente la squadra dove andare a trattare non è non è una dei più poveri quindi sicuramente non sarà una trattativa ribasso e vediamo che esce fuori certo se viene proposto anche lì il prestito sarebbe da sovra a sede perché non c'è senso continuare no con questa politica devi all'imprestito magari valorizzarli e vederli tornare alla base che è un po' quello che è successo a Ebrahim Diaz del Milan è stato diversi anni al Milan e si è valorizzato bene e cresciuto come calciatore adesso gioca con Real Dancerotti insomma non non vale la pena fare questo tipo di investimenti perché poi alla fine l'ingaggio ne parlavamo ieri con Fabrizio e con Alessandro e con Spillo l'ingaggio va alla fine te costa Luca così te viene in prestito ma te è costato di Riff e Deraf 12-15 milioni tra ingaggio e tasse quindi questo sicuramente è un aspetto che la Roma dovrà migliorare la Roma per migliorare avrà bisogno sicuramente di più qualità di più quantità sia tecnica sia de numero in rosa per avere diverse opzioni e tenere testa a due competizioni corre fino alla fine come ci hanno dimostrato poi Bologna-Atalanta che sostanzialmente oltre all'ottimo lavoro degli allenatori Tiago Motta e Gasperini a livello di gioco hanno anche preparato atleticamente le squadre bene per arrivare al finale e correre ancora è da febbraio che ci aspettiamo che scoppiano poi crollano poi crollano non so crollate quindi è stato fatto un ottimo lavoro e questo ottimo lavoro ha portato a superare Roma-Lazio e addirittura Napoli un Napoli quest'anno sicuramente irriconoscibile ancora peggio di Roma e Lazio però Roma e Lazio insomma io me l'aspettavo ripeto per l'ennesima volta quinta e sesta sono state superate da due squadre che hanno reso sicuramente di più quindi vediamo adesso la Roma punterà sui giovani ancora deve essere ufficializzato Ghisolfi evidentemente sta sbrigando le pratiche burocratiche col Nizza per svincolarsi poi molto probabilmente verrà presentato settimana prossima a bocce ferme a fine campionato dalla Roma per quanto riguarda Empoli insomma Lukaku è squalificato Di Bala ancora in dubbio oltretutto Di Bala ha ricevuto la brutta notizia la brutta sorpresa ma già la sapeva prima probabilmente di Roma-Genova domenica sera visto anche l'umore che aveva nel giro di campo e quando è entrato Di Bala non farà parte della Coppa America questa è una brutta notizia per Paolo ma sinceramente sia da tifoso romanista ma anche per lui insomma credo che possa essere invece una bella notizia perché Paolo potrà passare un'estate serena visto che viene pure da un anno col mondiale in mezzo al Natale in cui si è spremuto come un limone a livello anche non solo fisico perché mondiale ha fatto poche apparenze ma anche a livello mentale avrà quest'estate per riposare fare una bella vacanza e fare una bella preparazione dove si potrà capire se sto ragazzo se può gestire questo sarà un'altra chiave del mercato capire se su Di Bala ci punteranno Daniele e Ghisolfi perché credo che terrà banco il discorso su sto giocatore vista l'importanza che riveste nella Roma e vista anche insomma i tanti problemi che ha di continuo quindi questo andrà sicuramente a mio modo di vedere andrà andrà valutato dicevo quindi a Empoli verrà dato spazio a chi ha giocato meno sappiamo che la Roma arriva comunque sesta la Roma comunque se la giocherà ma logicamente farà qualche cambio vista anche le squalifiche e i problemi fisici di alcuni giocatori quindi vediamo se vedremo Azmun e Ebram dal primo minuto visto che mancheranno praticamente sia Lukaku che Di Bala vediamo se il Sharawi giocherà se giocherà Zaleski insomma sarà interessante capire che tipo di formazione scenderà ricordiamolo domenica sera perché poi ieri in tarda serata tardo pomeriggio sono uscite tutte le date tutte le date dell'ultima giornata domani ci sarà sta finale d'Europa League e da lì partiranno le intenzioni se l'Atalanta perderà non ci sarà più interesse da parte della Roma per il piazzamento dell'Atalanta se l'Atalanta dovesse invece vincere l'Europa League logicamente un minimo di interesse soprattutto da parte della società che ha l'interesse economico ci sarà perché allora lì se l'Atalanta riesce a non arrivare addirittura a quarta la Roma può accedere alla Champions cosa che molti tifosi romanisti incredibilmente ma forse anche giustamente non vogliono sia per un fatto di rivalza sull'Europa League una coppa che insomma dopo due volte in semifinale una volta in semifinale oltretutto persa male noi romanisti terremmo a vincere ad alzare trofei però è anche vero che la società se deve fare i conti appunto con i bilanci quindi l'ingresso in Champions sarebbe sicuramente una boccata d'ossigeno anche per la costruzione della squadra logicamente non saremmo pronti per competere in Champions come invece lo potremmo essere con un mercato intelligente in Europa League quindi questo è un bivio fondamentale perché anch'io sono d'accordo che vorrei riprovare la scalata all'Europa League cercando logicamente di migliorare in campionato e quindi guadagnarci la Champions sul campo però d'altro canto capisco anche il pensiero della società che ha bisogno di risorse perché insomma sappiamo è un momento critico per tutto il mondo a livello economico e quindi una ventata, denaro fresco in una società fa sempre bene ed è sempre utile ragazzi miei quindi bisogna anche capire queste necessità capisco che noi siamo tifosi ma se vogliamo bene alla Roma dobbiamo capire che la Roma non è esente come nessun'altra squadra dal discorso di bilancio quindi ci servirà assolutamente denaro fresco per poter anche sopravvivere oltre che crescere detto questo ragazzi sto chiuso in macchina c'è un sole meraviglioso me sto schiattà ditemi cosa ne pensate di questo video mettete tanti mi piace commentate e dite la vostra e ci vediamo domani così parliamo sia delle novità della Roma sia della finale di Dublino che insomma saremo lì a 12-13 ore dalla finale discuteremo un po' di quelle che saranno le probabili formazioni di Leverkusen e Atalanta e cercheremo di capire chi tra le due la potrà spuntare io domani avrò un piccolo intervento piccolo interventino dovrei farcela ad andare live alle 9 quindi la live la programmerò tra stasera e domani mattina quindi se va tutto bene ci vediamo Atalanta Leverkusen insieme e ci gustiamo questa finale di Europa League un bacio e buon martedì a tutti ciao ciao Atalanta Leverkusen insieme